ahahah cos'è questo? cazzo ma cazzo mi ha stunnato cioè la granata che ha tirato a te ha stunnato me ma che cazzo è? quella che ti esplosa dietro mi ha stunnato provo a fare un movimento sexy è stato bravo ah grande mi hai fatto? bravo grandissimo mamma sai cosa devi fare? fucile d'assalto edigolo oh mio dio madonna si si guarda che ci sono degli animali sono degli animali cosa dico cosa si dico contro loro sei one shot è one shot fucile dico guarda che animale che cazzo lo stanno insieme fammi capire si stanno insieme cosa si dico contro loro fucile mi fai bene i drop shot mi fai bene i drop shot mi fai bene i drop shot nooo sono a destra one vabbè come ti hai nato con c4 mi hai detto si vabbè sei morto zio poi hai messo il pompa c4 e' sinistra one eh niente va era ancora girato di schiena quando mi ha ucciso non importa non è quello che ho visto io io li sto giocando scattando ecco questo è un po' pompa. L'altra è una deagle super, una super deagle. Ah, davanti a me, ma solo a destra. Ma questi qui non li stanno usando, non li stanno usando delle cuffie. A parte che anche io non sento un cazzo. Io questi passi li sento, però le mie cuffie insieme a me. Round decisivo. Sgominateli. What the fuck? Mi sta assoluto. Oh, fammi cambiare arma. Cazzo, ciu, 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 ciu. Testa di merda. Cazzo, cambiare arma. Fammi cambiare arma. Su scontro ravvicinato. Oh, ce n'è uno a un metro di distanza di me. Aspetta che prendo il po'.